Il 2023 dell'eredità ha portato sotto le luci della ribalta Riccardo. La presenza di questo concorrente è diventata ogni giorno sempre più importante per gli spettatori. Che ormai lo ritengono un volto familiare. Ma Riccardo è riuscito a conquistare persino le simpatie di Flavio Insinna. Puntata dopo puntata, il conduttore e attore romano non manca mai di elogiarlo e definirlo una sorta di, parente, acquisito. Cognome. Hobby e vincite. Scopriamo qualcosa in più su questo concorrente. Chi è Riccardo dell'eredità 2023? Riccardo Bertocci. Questo è il nome completo del campione del momento dell'eredità 2023. Viene da Cortona, in provina di Arezzo. Ha due figli e un nipote. Di cui ha parlato spesso nel corso della sua partecipazione al programma. A proposito di Cortona. È la medesima città dell'ex campione Andrea Saccone. Quello dell'abbraccio con Fabrizio Frizzi. Tornando a Riccardo. Su di lui si sa che è laureato in regia teatrale e televisiva presso l'Università della Georgia. Attualmente è un agente di commercio. Ma in passato ha fatto anche parte dell'arma. L'amicizia con Giovanotti e altre curiosità. A spingerlo a mettersi in gioco da Insinna è stata sua madre Rosa. La quale, a sua insaputa, lo ha iscritto al casting dell'eredità. Tra le tante curiosità che riguardano questo simpatico e colto concorrente, spicca persino l'amicizia che lo lega a Giovanotti, Lorenzo Cherubini. Pare che i due si conoscono sin dall'infanzia e che abbiano lavorato insieme a Radio Foxy's. Non a caso tra le innumerevoli passioni di Riccardo troviamo anche la musica. Quanto ha vinto Riccardo all'eredità? La prima apparizione di Riccardo, all'interno del game show di Mamma Rai, risale al 3 gennaio. Fino al giorno 30 gennaio, Bertocci ha continuato a giocare prendendo parte a 28 partite e 14 ghigliottine. Purtroppo non è riuscito a conseguire una vincita. Per cui si può dire che il suo portafogli è praticamente, asciutto. Per cui si può dire che il suo portafogli è un 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 portafogli. Per cui si può dire che il suo portafogli è un portafogli è un portafogli è un portafogli è un portafogli.